Adesso, ancor più che in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma come in tutte le regioni. Com'è del tutto evidente, infatti, le polemiche disorientano cittadini sempre più stanchi per la lunga crisi. Non è una frase retorica, priva di fondamento, continuare ad affermare che finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. In questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia. L'RT medio calcolato sui casi sintomatici è nell'ultimo rilevamento pari a 0,99, in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che supera l'1. Dieci regioni hanno un'RT puntuale maggiore ad 1, di cui 9 anche nel limite inferiore, in aumento rispetto alla settimana precedente. Fuori da tecnicismi, questo significa che l'RT si avvia, con le misure attualmente in vigore, a superare la soglia di 1. Mi rivolgo a tutte le forze politiche. Il buon esito della campagna di vaccinazione è obiettivo di tutto il Paese, non di una parte di esso. Ci sono stati ritardi nella consegna delle dosi, che però saranno superati. Ma la campagna vaccinale non si ferma, va avanti e giorno dopo giorno aumenterà la quota di cittadini immunizzati.